Ciao! Ciao! Allora eccoci qui, vi facciamo questo micro video giusto per dirvi che avete risposto al sondaggio il sondaggio è andato molto bene praticamente tutti ci avete risposto di sì alla richiesta se fare il Q&A quindi direi usiamo questo video per raccogliere tutte le vostre domande una volta raccolte poi faremo il video sì scusate siamo in macchina quindi spallonzola tutto esatto, non filmate mai se siete in macchina mi raccomando, chi guida non faccia filmati esatto, soprattutto chi guida invece chi è dal lato del passeggero faccia il cavolo che vuole tanto può bene domande sconce, domande normali domande domande, esatto noi aspettiamo anche affermazioni, manovilissimo esatto, vi lasceremo anche le stesse domande, basta dai non ho neanche tagli sto video mannaggia quindi lasciateci le vostre domande qui oppure sui social perché vi lasceremo anche sui social lo stesso identico video detto ciò ciao a tutti ciao